Ciao Brian! Guardi la Uber, come ti posso aiutare? Avrai bisogno che mi monti un paio di attacchi nuovi perché domani vado al prodotto a scelare Ma Uber, questi sono ormai arrivati al capolino non hanno neanche le lamine Ah, che peccato! Ah, ma perché non provi questi? Che belli! Uber, questi sono l'ultimo modello di sci laminati, strutturati Eh, ma chissà quanto costano? Ma no, non li devi comprare bastano due bip e li puoi tenere quanti giorni vuoi Che servis? Al Ferrari Ski